Ben trovati in aggiornamento con la tendenza per la nuova settimana che vedrà un deciso cambiamento del tempo sull'Europa centro-medionale. Anticiclone di fatti che si muoverà verso il nord Europa, verso la Scandinavia e sul bordo orientale scivolerà questa massa di aria artico-continentale verso i Balcani, la Grecia, ma lambirà anche gran parte dell'Italia con un sensibile calo delle temperature specie al nord e sul versante adriatico, venti decisamente più freddi di Bora e Grecale. Da valutare poi la formazione di un minimo di bassa pressione sul Mediterraneo con dell'instabilità che potrebbe interessare il centro-sud, in questo caso neve a quote basse. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo.